così nudi e crudi senza neanche nessun video perché non è partito il video avevamo finito l'altra volta col video che partiva il coso perché è boh niente video se lo guarderemo dopo no se non c'è perché è messa male erba verba stai fermo mi è venuto addosso che bello ma sono un po scasso guardiamo un po qua siamo messi bene con le munizioni ci ho 5 doppietta 5 fucile e 5 pistola guarda io 10 pistola ci pistola 5 fucile 0 0 metra quanti mitra che hai tu figli e 2 e 0 su magnum bene tanto nessuno ancora noi non ci rendiamo ah no no never give up grandissimo mi sta sul cazzo col pezzo qua faccio di luce che ce l'ho quella ovviamente ragazzi non ci vuole neanche tanto che usa che io usi la magia perché chi segue altri video sa che io uso la mantina ecco qui il video lo aspettavi sono molto contento stanno a accende il barbecue vado io? si o vieni anche te non lo so facci lei a sua scelta a sua discrezione sono dietro di lei sbam 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 ancora due colpi sbam l'adwords è qualcosa d'oro ho visto uno che sta scappando come è uno che sta scappando? che vuol dire? no bu no faccio cagare scandalo doppio eh ti ho aiutato anch'io guarda ma forte dov'è? qua ah perché c'è stato salto no no ragazzi quel pezzo qua è uno dei pezzi che abbiamo rifatto più e più volte questo me lo ricordo la morte non ho bisogno del montante uh bello no dove hai fatto questo? cos'è? da dietro? è da dietro è proprio strozzato? ma è la cochina clutch mi ho tagliato la gola ma va fanculo mori dammi due soldi no doppietta mia ho bisogno di doppiette ma se mi guarda succedeva qualcosa si però che si scendeva un co- ah è vero no 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 non lo so cosa no ci siamo inchiappati eh no io mi occorre anche a me a quale fucine ah ok ok aspetta no no guarda eh combina comunque ah no io finito tutte no è vero che non posso più cambiare ma va fanculo devo cambiare la posizione della lancia galanate eh vabbè sticazzi eh eh lo devo far dopo eh devi fare quando è bello quando muori quando chi? tra poco muori pausa perché tra poco moriamo e lo fai no? quel pezzo qua me lo ricordo molto bene perché l'abbiamo rifatto pochissime volte quindi si sa no si ma prendi tanto non succede niente adesso cos'è emblema del mare proprio quello da mettere là dentro con un lamantino lì salve venga lei uomo con le fiamme eh questo qui non si poteva uccidere ok cosa? non si poteva 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 cioè mi stai uccidendo te basta dove sei? eh vi dietro al coso grosso dietro al coso grosso adesso mi fanno fuori ecco bene mi sparavo figa ci vediamo al secondo medaglione qua taglio tutto quando siamo dall'altra parte siamo alzati io te mi pappo potta che cazzo non so di me che tattile delle pote bote e non devi spostare l'arma ah bravissima esco venga di qua adesso passo il fuoco vai 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 eccoci qua stiamo andando al secondo medaglione hai già messo giù ah no ah ok hai messo giù no? ah guarda chi c'è sta il nostro amico si allontani per l'amor di dio non gli farò niente ma c'ho goduri a sparargli quindi no infatti non gli faccio niente porca puttana Eva via fuga se la fuggheggi come ah si di qua perché passa dal fuoco ma vaffanculo si poteva andare ma meglio che mi sei incantato la manopola vedi perché si incanta eh se la fa? uh ora è la manopola che sta andando cattana si voleva salve come va? tutto posto? come va? eh buon uomo lei costo figa di cosa via se ne vada via battiamo ogni record mondiabile ho visto una cosa che mi occorre fuga aio sbou 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 via no sto a morire eh a me mi si incanta la manopola scuso fuga no c'è gente andiamo andiamo di qua mi scena eh se funzionasse la manopola io so dove andare salta giù ok dopo occhio tutto da fretta facciamo e dove era l'ultimo pezzo? eh qua a sinistra nooo ste cose brutte bravo scappi no via 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 mi scegua ho venga duro vero che ce l'hai ancora la cosa oh aiuto cosa? l'erba verde almeno no non ce l'ho non ce l'ho la finita ok no no non l'abbiamo trovata prima no 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 tuttana la madonna la cantante ovviamente la madonna occhio occhio ah qua buono buono mi sa che bisognava andare là in fondo ok ma saper che tasto adesso mi sei sbloccato via fu che da solo ok e qua ho checkpoint siamo arrivati buono mica dovevi andare su te no buono qua ricarichiamo adesso mi sei sbloccato ah aiuta salto vai olle dopo cade subito fatti veloce no non devo andare avanti si eh vai a prendere il pezzo dopo cadi subito e non stai lì tanto a ammazzare se posso darti una mano ti potrei anche dare qualcos'altro veloce dritto lei dritto? avva a bordo lì dove c'è quello lì eh qua eh giustamente devi aspettare la fila no venga venga ah giustamente no non abbi paura via ah io ho picchiato contro oddio sti cazzo di fascio di luce di merda so che c'è su quello lì come si ci armava quello lì con tre occhi quello di dragon ball lo faceva al fascio di luce ah bravissimo lo so che c'è su tang xing lì ma sta perché non brucia poi emblemizzi mamma mia già finito io scappo sperando che non succeda più niente anche perché sopra dopo sì ma tu vuoi lì perché perché non mi corri dietro no metto vai 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 tu mi corri anche tissimo vengono su quelli lì supera non posso supera io supera me aiuto aiuto non posso andare addosso perché sennò mi butta via cosa ho tanta paura salve come va ma perché c'è su con te no guarda la porta aio schiaccia schiaccia eh non mi esce cerchio eh non mi esce vai gira oh eh c'è davanti lui cerchio come mi arrivano eh oh mamma mia cos'è si fanno superare i pezzi cazzo però non capito perché non mi attaccavo perché non aveva visto me meglio ah no così si fa così si fa strano davvero visto noi stavamo la passavo giornate 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 per ucciderli bravissimo potremmo ucciderli e invece tac venga qua usa no no si te che bello così si fa e mo almeno quello la era diciamo uno dei punti più più mastodontici da superare oh oddio può questo ah no questo qui figa questo sempre col faccio che lo facevi te si mi sembra perché se io mi metto mezzo male aghizzizzum si uno l'altro doveva fare però doveva stare Allora Io se ce la faccio Porca puttà Allora io vado là Nella posizione giusta Qua sopra qui almeno se succeda qualcosa Ma ammazza e ti arrangi tio Allora 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 Adesso non mi ricordo bene Perché mi è uscito? Ah salta giù Ok Adesso non mi ricordo Questo è un puzzle Non mi ricordo se c'era anche, esamina Sì che cazzo c'è da esamina Perché mi è uscito da Ah Ah ok Ah qua Ok Deve andare lì il fascio Eh certo Allora sposta quella Questi puzzle ambientali Sì sto guardando Eh devi spostare quella lì Questi incredibili Bah Puzzle ambientali Che mi fanno digerire Che stimolano la La L'organismo L'organismo Alcchio che l'acqua che vendono Nelle farmacie E mo? E con ciò? Scendi Devi venire qui sopra Scendi Ah arrivo Come on Chris Olè E sto si farà un pochino più difficile Perché Su mi bagno dopo totto Scendono anche dei simpatici personaggi Se non mi ricordo male Allora Urbino Questo mio Com'è? Ah Perché mi sei sparita Nelle pietre? Eh così Scebo Scebo Ops Scusasse Eh Prondo Ma andiamo a secondo Dopo ripartiamo Ah no Si parte da qua Ok perfetto Perché mi sono messo proprio dietro Dagli abbatti Ah ok Eh Mettiti via Sì sì Vai 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 Vado? Vai 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 Io sto a rubare Sto a sprofana Allora Il coso deve arrivare Dov'è il coso? Ah Là No O sì Aspetta eh Deve arrivare là in fondo Tac Sì 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 Questo qui va girato Ok era lui quello che faceva le robe E' lui più intelligente dei due Non culati Si vede come intelligente Ma io intanto Intanto che ci siamo Mi guarderei anche le chiappe Venga qua Mi mostri il suo lato migliore Ok Abbatti anche questo T'abbatto io L'abbatto Eh Chi? E niente Eccoci Sto facendo allusioni io Ah Dio Che stai a fa? Eh stavo andando indosso al raggio Ecco Guardate i trezzoli Ragazzi Applauso Arrivo Chris 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 Hurry up Hurry up Terzo livello The first round Eh terzo livello Primo round Giusto ma Amicile Fai vedere Devo andare Devi andare alla porta Se non mi sbaglio Yes Eh ma Ma quando cazzo vado io? Qui c'è il te Jordan Ah aspetta Apri Noo era una trappola Uno Eh Correttino E basta ucciderli E basta schiacciare Cosa touch Che scompare Cosa E io sono finito Io sono finito Arrivo Si libererà Mi dicono Boom Pensate che devo passare di qua Ma uccidimeli Arrivo Questi obbrogli Uccidimeli Pronti Boom Oh Adesso sono ancora Ho finito Ho finito Ho finito Infinibile Eh perché fanno schifo sti coi Perché ti fanno sputtanare Solo se non iniziao Ah sti infami schifosi Mamma mia Eh te occorrevate andare a sputtanare le cose Mica siamo venuti qua Ah Ho finito tutto Non c'è la pistola Scusate se sputtano qua Ma Non avevo più una fava Eh O come si suol dire Non avevo più un dino Fava passato Allora di qua Eh si è aperto Ops Bam So che sto sputtanando tutte queste cose Ma ho finito l'infinibile Ah oh Ah non ce l'ho io C'è un mitra Eh Consente Thank you Vada Esamina E prolifichi Vado a fare il suo lavoro Adesso adesso Ah io ho finito Stai attento che hai messo anche Eh lo so lo so lo so Infatti mi sono messo qua No però lo lascio qui Il teschio Allora Ho finito tutto C'è anche un colore Che passa attraverso L'altra parte Tu spostati Tu spostati Lasciamo qua Si lancia la porta da lì Tip Tac Tac Hmm Hmm Devi stare attento Che magari ti entra E la madonna Non vedo l'ora Che mi entri Guarda No mi sono messo qua Mi sono spostato Dalla porta Così almeno Così almeno Non mi entra Basta che non ti entri A te Adesso io lo lancio Contro quella porta lì Non ne va a farlo Due o tre volte Mi sai si Adesso io faccio Sono due le porte Faccio la porta di là adesso Ah perché se mi baglio Apre una cosa Quando apri una porta Apre una cosa Ah non prende la porta E poi apre l'altra No non la prende Quello là non la prende E niente Fallo io Perfetto ragazzi È finita qua la serie Ti vediamo Con la prossima No ma Eh ho sbagliato Non ho capito Ma chi ti ha detto qualcosa Così Tac tac Ok Adesso vai a spostare Cium cium Pim pum pam Sposti quella Ti viene dentro Però ti viene dentro Stai attendo So Au Spera Fermati Eh Au Te sto a dire che sono spostato Maremma Non me stai a vedere Oh Eh che cacchio Pim pum pam Ah non c'è la coli Vedi Ah le apre tutte e due Mmm Ha aperto l'idolo d'oro Che se si prende Quello di 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 Cosa Di Indiana Jones Cade Moriamo tutti Un spaccato E la madonna Te Mai abbastare Serpentello Serpentello Carabio Eh non c'è più un cazzo Qua non mi ricordo Di medaglioni Ops Ho sbagliato tasto Ops E mo Ah però Dove anche arrivare Qui in fondo Sì 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 Vabbè qua l'abbiamo fatto per aprire Mi metto già qua Proprio dietro Quelli Non mi prende Aspettiamo Shiva La sprofanatrizia Di Tromb Di Tromb Vai vai Prendi tutto Che tanto va tutto In saccoccia mia Che stai a fa Eh buvi Dopo cambieremo Immediatamente La manopola Che sta andando Ah puttana Eh mi si era bloccata Prenda l'idolo Ah spacca anche il teschio Vedi quel teschio Che c'è attaccato Allo muro Qual teschio Quello lì Lì Non vedi le corna Ah C'è arrivo Cutelle Sta qua Che spreca i colpi Vabbè Siamo in corso Piccoli problemi tecnici Scusate Adesso ho capito il tasto Qual è Che tasto è Quello che si impalla L1 L1 Perfetto Guarda No Adesso non si è impallato A te a mancura Ah è per quello che si impallava L1 E dopo prendiamo l'altra Adesso dov'è che deve andare Adesso deve andare Dove sono io Ovvero là dentro Quella porta là a sinistra Quella porta là La Quella porta là Gira Sinistra Sinistra Lì Lì Esattamente lì dentro Quindi Facciamo due calc Beh sì Beh no C'è da solo muovere uno Perché io sono là dietro Devo fare solo il giro 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 Tongo Cal Cal E qui c'è andato dentro Ho già preso tutto Come mai brucia Ah c'è un serpente Sì lo so Schifo Oddio Che mi toccava ricominciare tutto da capo Non è che muori No Ma Io sono là dietro Fermo 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 Io come faccio Gira 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 Ecco Eh sì Gira Sinistra Ah Ti dovevo Ti dovevo Spostare io una cosa Sì Non posso abbassarvi No la sposto Sposto di qua Sì Sì No Ho sbagliato il giro Mia che è scarso Mia che ho schiacciato a sinistra Sì Sì Stavo di qua Non toccare niente Non toccare niente Visto Adesso per colpa tua Mi tocca rifare tutto No dai Sì Le porte Questo qui ce la rifarlo tutto ancora Sì Le porte Sì 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 Vabbè che devi attivare Lo stesso però Sti cazzi Non mi interessa Fai direttamente Cosa la E vado a mo Ti salvo io No no Non mi occorre Come? Non mi? Eh Sono andato addosso io Eh Sono andato addosso Foto Foto le chiappe Foto Troppo tanto Mi sono andato addosso Ah 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 Caracino Caracino Eh Adesso io vado addosso Vai vai Io vado addosso Con un bel carpiato Cosa ti fermo imbecilla E si ferma a parlare Sbam Aiuto Salvataggio Buongiorno Com'è? Come va? Tutta a posto Tutta a posto Quale è il tuo Ah Adesso non c'è un boss No C C C C C C C C C Umbrella Umbrella È là È là E E E E Qua dovrebbe tutto inizio Almeno Sì Non c'è un bambino Non c'è un bambino Umbrella Umbrella What was Umbrella doing? I don't know It doesn't look like anyone's been around for a while You can be sure they wanted to keep this place a secret Some of this equipment's got the TRISO logo on it Are they working together? U respe punk ε n C C C C C C C C C Cristo che non mi ricordo mai Capito? Mi chiamo Cris Quindi Cris C Ho sboccato anche la grippu ैindibipi adibibboo co Umbaga Mi ha fatto schifo No Umb Io C E C Cosa? Questo S Qua Imprecisi strano ma vero mi hai stracciato sulla precisione guardami i muscoli Chris number one Shiva e non è spero che l'episodio vi sia piaciuto ciao